Ok, dunque oggi l'argomento sarà quello del trasporto di corrente, eventualmente se riusciamo di calore, a causa diciamo di campi esterni applicati al gas di elettroni che si trova poi in questa zona qua. Come dicevamo l'altra volta, questo è il più semplice fenomeno di spostamento dall'equilibrio, cioè via dall'equilibrio per questo gas di elettroni. L'idea è che appunto al nostro gas di elettroni andremo ad applicare dei campi esterni, un campo elettrico, un campo magnetico esterni e questi campi elettrici e magnetici vanno a fornire delle forze agli elettroni. Allora attenzione qua Kittel tende a usare il CGS, lo scrive pure qua, per tradurre in MKS queste formule del Kittel dove c'è B fratto C, basta togliere il fratto C, semplicemente. E vorrei attirare anche la vostra attenzione sul fatto che lui usa il simbolo E per la carica dell'elettrone, quella che io di solito chiamo QE e quando poi troveremo E quadro in queste formule qua, quel E quadro lì non è l'E quadro che abbiamo usato fino adesso, cioè QE al quadrato diviso 4 più greco da epsilon 0, ma è semplicemente la carica dell'elettrone al quadrato, that's it. Ok? Quindi le formule del Kittel vanno tradotte diciamo facendo queste piccole sostituzioni qua. Ok, quindi diciamo la forza che agisce su un elettrone è data dalla sua carica meno QE volte il campo elettrico più la forza di Lorenz carica quindi meno QE per V, prodotto vettoriale B, perpendicolare sia alla velocità che al campo magnetico. Ora, tutto ciò diciamo applica ad ogni elettrone, quindi ogni elettrone sente una forza che è quella indicata lì e questa forza va a determinare un'accelerazione dell'elettrone, quindi va a modificare la sua velocità e questa velocità dell'elettrone è legata al suo K, il punto in cui si trova in spazio reciproco, da questa relazione. L'impulso M per V è uguale ad H tagliato per K. Quindi diciamo a parte un fattore H tagliato su V, i cambiamenti di velocità si riflettono in cambiamenti su K. Quindi diciamo immaginiamo il caso semplice di campo magnetico nullo, quindi semplicemente l'applicazione di un campo elettrico, cosa ci dice questa equazione? Ci dice che se noi applichiamo un campo elettrico per esempio diretto verso sinistra, in modo tale che la forza che è meno QE oltre il campo elettrico sia diretta verso destra, a ognuno di questi elettroni, il K cambierà nel tempo in maniera lineare, perché questo ci dice questa formula qua. La derivata di V rispetto al tempo o la derivata di K rispetto al tempo è una costante, quindi cambierà linearmente nel tempo e si sposterà nella stessa direzione della forza, meno QE per E, quindi in questo caso verso destra. Quindi di fatto la sfera degli stati occupati, la sfera di fermi degli stati occupati che si ha all'equilibrio al tempo iniziale prima di accendere il campo elettrico, appena si accende questo campo elettrico comincia a driftare in direzione opposta al campo elettrico. Quindi in pratica la velocità media degli elettroni non sarà più zero, è a zero perché la sfera di fermi è centrata intorno all'origine, in assenza di campi applicati, quindi all'equilibrio, ma quando applichiamo questo campo elettrico questa sfera inizia a driftare in spazio K indicando un'accelerazione degli elettroni, un aumento lineare nel tempo della velocità degli elettroni. Ok? E tutto ciò sarebbe, tutto ciò che capita agli elettroni se questi elettroni si trovassero in una situazione ideale di essere un vero e proprio gas di elettroni in assenza di qualunque altra cosa intorno. Quindi elettroni nel vuoto, diciamo, o se volete accompagnati da un vero e proprio gelio perfetto, una marmellata uniforme priva di qualunque difetto, di qualunque fluttuazione. In realtà, diciamo, i veri elettroni nei veri solidi si trovano a interagire con degli atomi che stanno in certe posizioni e questi atomi, finché stanno nelle perfette posizioni di un cristallo, non sono particolarmente in grado di disturbare gli elettroni. Però nella pratica questi atomi non stanno veramente nelle perfette posizioni del cristallo e quindi c'è qualche cosa che va a disturbare il moto degli elettroni, ci sono dei fenomeni di scattering e di fatto questo moto uniformemente accelerato, libero, diciamo, descritto da questa equazione qua, continua a valere soltanto per un po' di tempo. Dopo un po' di tempo, questo po' di tempo che viene indicato con il simbolo tau, si ha una collisione, quindi in media ogni elettrone dopo un tempo tau si trova a effettuare una collisione con che cosa? Va, con due tipi di deviazioni dall'idealità del cristallo che sono schematizzate in questa figura qua. Il primo tipo di deviazioni sono i fononi, cioè il fatto che un cristallo sta vibrando a qualunque temperatura, diverso da zero, il cristallo si trova in uno stato vibrazionale, termico, eccitato e dal punto di vista degli elettroni, queste vibrazioni del cristallo sono viste come essenzialmente delle onde di compressione e dilatazione sostanzialmente surgelate, surgelate nel senso che queste oscillazioni delle posizioni dei nuclei del cristallo avvengono in maniera estremamente lenta rispetto alle velocità degli elettroni che sono appunto tipicamente dell'ordine della velocità di fermi che abbiamo visto ieri, sono dell'ordine del milione di metri al secondo. Quindi a queste velocità enormi le onde di vibrazione degli atomi che invece hanno una scale di velocità dell'ordine della velocità del suono, nell'ordine del migliaio di metri al secondo, quindi mille volte più basse, sono essenzialmente delle oscillazioni congelate rispetto all'elettrone. Quindi questo elettrone vede delle fluttuazioni della densità del cristallo e queste fluttuazioni sono in grado di determinare dello scattering, come poi descriveremo in maggiore dettaglio. Naturalmente più i fononi sono eccitati, quindi più alta la temperatura, più è probabile che questi determinino scattering e quindi più corto diventerà il tempo di collisione dovuto ai fononi. L'altra sorgente di scattering sono difetti cristallini, ad esempio impurezze, oppure vacanze, oppure difetti cristallini estesi, come bordi di grano, dislocazioni e via dicendo. Tutti questi qua sono sorgenti di scattering e insieme cooperano a determinare questo tempo di collisione tau. Quindi l'idea è che l'equazione del moto circa libera che abbiamo scritto qua, che in principio vale per ciascun elettrone individualmente, la possiamo trasformare in un'equazione per il moto medio degli elettroni, quindi per la velocità media di drift del centro della sfera di fermi degli elettroni e permetterci di applicarla solamente per un tempo dell'ordine di tau. In effetti, diciamo, se noi queste equazioni le integriamo per un tempo qualunque T, K cambierà di una quantità che è meno la forza applicata, scusate senza meno, la forza applicata che è meno QE per E, volte il tempo diviso H tagliato. Questo è l'incremento di K. E questo incremento di K, di fatto, dopo che noi teniamo acceso un campo elettrico in un regime stazionario, cioè non lo cambiamo, lo teniamo fisso, questo campo elettrico, per un po' di tempo, dopo un po' questo poco tempo, un tempo dell'ordine di tau, di fatto il centro della sfera degli stati occupati si sposterà da K uguale a 0 in una quantità delta K che è data da questa formula in cui al posto di T ci mettiamo tau. Naturalmente lo spostamento, come dicevamo prima, è nella direzione opposta al campo elettrico, semplicemente perché gli elettroni hanno segno della carica negativo. Dato il delta K possiamo ricavarci la velocità di drift degli elettroni, semplicemente andando a moltiplicare il delta K per la costante di Planck e dividendola per la massa degli elettroni. Vi ricordate che, come dicevamo prima, c'è un legame diretto tra il K e le velocità, che è questo dato qua, quindi c'è un fattore che ha tagliato a divisore M. A questo punto possiamo dire che, salvo un transidente iniziale di una durata dell'ordine di questo tempo di collisioni, quando applichiamo un campo elettrico costante a un metallo, descrivibile in questo modello semplice di gas di fermioni, abbiamo uno spostamento dei K, corrispondentemente una velocità media degli elettroni, diretta nella direzione opposta al campo elettrico e di una quantità data da queste formule qua. Se sappiamo la velocità, siamo in grado anche di calcolarci la densità di corrente elettrica, perché in effetti, se noi prendiamo la velocità media di questo gas di elettroni, V, e la moltiplichiamo per la densità, cioè il numero di elettroni al metro cubo, V per N diventa un numero di elettroni al secondo al metro quadro, perché V appunto sono metro secondo, N sono uno fratto metro e cubi, quindi otteniamo il numero di elettroni che per unità di tempo attraversa l'unità di aria, è la corrente numerica, la number current, quella che dice appunto quanti elettroni attraverso una qualunque sezione perpendicolare alla velocità per unità di tempo. Se noi moltiplichiamo questa corrente numerica per la carica degli elettroni, che è meno E, meno QE appunto, otteniamo la densità di corrente. Quindi la densità di corrente è data da meno la carica dell'elettrone volte la densità di portatori, o la densità degli elettroni, volte la velocità, quindi al posto di questo Q ci va meno la carica elementare. Ok? Quindi questa è la densità di corrente elettrica e a questo punto possiamo andare a sostituirci dentro la velocità di drift in termini del campo elettrico e i due meno che avevamo, il primo meno è legato al fatto che appunto la velocità degli elettroni è opposta alla forza applicata perché gli elettroni hanno carica negativa e quindi vengono spinti all'indietro, e il secondo meno, legato al fatto che appunto essendo negativa la carica degli elettroni, la loro corrente elettrica è diretta in direzione opposta alla corrente di numero di elettroni, quindi gli elettroni vanno per esempio a destra e la corrente elettrica va verso a sinistra, questi due meni si cancellano e quindi il risultato è questo indicato qua, è che la corrente, la densità di corrente elettrica è proporzionale al campo elettrico applicato con una costante di proporzionalità positiva che è data dal prodotto della densità numerica degli elettroni per il quadrato della carica degli elettroni e qua appunto spariscono i due meni proprio in questo quadrato, per il tempo medio tra le collisioni diviso per la massa degli elettroni. Va bene? Questa qua, questa relazione tra la densità di corrente e il campo elettrico è equivalente alla legge di Ohm, quindi una proporzionalità tra densità di corrente e il campo elettrico applicato corrisponde alla legge di Ohm. Normalmente la legge di Ohm uno la impara in un'altra forma, la impara nella forma in cui si dice che il potenziale ai capi di un filo è uguale alla resistenza del filo volte la corrente che passa nel filo. Quindi questa è la forma standard, potenziale in volt, resistenza in Ohm, corrente in ampere. In effetti, diciamo, quello che uno può fare è pigliare questa relazione e dividerla per la lunghezza del filo. Questa L qua è la lunghezza del filo, quindi il voltaggio fratto L, fratto la lunghezza del filo, è uguale alla resistenza diviso L, appunto, e la I, che ho indicato qua come corrente totale I, uno se vuole la può andare a sostituire mettendo la densità di corrente J volte la sezione A, la area, la sezione trasversa del filo. La corrente è uguale appunto il prodotto della densità di corrente volto alla sezione, immaginando che la corrente, la densità di corrente sia la stessa su tutta la sezione del filo. A questo punto ci accorgiamo che la caduta di potenziale V diviso la lunghezza del filo non è altro che il campo elettrico che abbiamo dentro del filo, supponendo che il filo sia un cilindro uniforme, naturalmente. Quindi questo è il valore di campo elettrico e dopodiché abbiamo riarrangiato qua queste varie quantità, abbiamo scritto la A prima insieme con la R divisa per la lunghezza del filo volte la densità di corrente. Quindi in pratica abbiamo una proporcionalità tra campo elettrico applicato e densità di corrente con fattore di proporcionalità che è A per R diviso L che viene chiamato Rho, la resistività del filo, del materiale, il filo di fatto questa Rho è una proprietà del materiale. E questa naturalmente questa relazione qua di proporzionalità diretta tra E e J si può scrivere anche all'inverso come J uguale 1 fratto Rho per E e 1 fratto Rho viene indicato come sigma e questa sigma prende il nome di conducibilità. Quindi la Rho è la resistività, la sigma è la conducibilità e tutte queste relazioni che ho segnato qua ci permettono anche di vedere quali sono le unità di misura di queste varie quantità per esempio la Rho è data dalla resistenza in Ohm volte l'area in metri quadri diviso la lunghezza del filo in metri e quindi è data in Ohm per metro e queste unità sono le inverse delle unità ovviamente della conducibilità che è l'inverso della resistività. Quindi la conducibilità si misura in Ohm metro alla meno 1. va bene osservate anche per facilitare la vostra memorizzazione di questa importante formula che giustamente la conducibilità è proporzionale alla densità degli elettroni più ce ne sono più sono in grado di portare corrente è proporzionale al tempo tra le collisioni più tempo passa tra una collisione all'altra più il campo elettrico ha modo di lavorare accelerando gli elettroni e quindi di aumentare la corrente per l'appunto è inversamente proporzionale alla massa degli elettroni perché nel tempo in cui il campo elettrico ha modo di accelerare gli elettroni gli accelera tanto meno quanto più questi elettroni sono pesanti e poi infine diciamo c'è un quadrato della carica elementare per via del fatto che gli elettroni sono tanto più accelerati quanto più grande la loro carica ma anche portano tanta più carica quanto più grande la loro carica e quindi la corrente come indicato qua è proporzionale un'altra volta alla carica portata dai portatori di carica da cui il quadrato ok quindi abbiamo ricavato questa legge di Ohm sulla semplice assunzione di avere un tempo medio tra le collisioni quindi un processo stocastico in cui gli elettroni vengono accelerati e a casaccio urtano difetti o del cristallo o fononi e vengono in qualche modo riportati verso l'equilibrio se a un certo punto si spegne il campo elettrico si mette a zero il campo elettrico rapidamente questa distribuzione spostata dall'equilibrio delle occupazioni fermioniche a causa proprio delle collisioni intenderà riportarsi verso la distribuzione l'equilibrio è corrente quindi in un tempo dell'ordine di tau si arresta va bene quindi abbiamo appunto questa formula della conducibilità e della resistività con le unità che abbiamo discusso un attimo fa e a questo punto diciamo parliamo un attimino del confronto con gli esperimenti che ci danno un'idea dei valori poi di queste di queste conducibilità di questi tempi di collisione eccetera allora di fatto abbiamo questa tabellina qua che riporta la conducibilità in unità di 10 alla 7 diviso ohm per metro o la resistività in unità di 10 alla 8 ohm per metro per gli elementi metallici nella tavola periodica adesso fatemela girare che si legga vedete che tipicamente abbiamo per l'appunto delle resistività nell'ordine diciamo di qualche 10 alla 8 ohm per metro poco più di 10 all'8 ohm per metro nel caso dell'argento che è il miglior conduttore il miglior metallo conduttore a temperatura ambiente quindi questi sono i valori a appunto 295 Kelvin naturalmente in ognuno di questi materiali la resistività cambia con la temperatura aumenta con la temperatura e a temperature più basse si avranno delle resistività più basse dopodiché cosa succeda di preciso a bassa temperatura è una questione abbastanza interessante ma cominciamo un attimino a discutere il caso di alta temperatura allora diciamo prima di tutto bisogna vedere un attimino come come Tau viene influenzato dai diversi meccanismi di collisioni di cui abbiamo parlato allora tendenzialmente questi diversi meccanismi cioè le collisioni tra gli elettroni e i difetti del cristallo e i fononi avvengono in maniera essenzialmente indipendente quindi un elettrone può a casaccio viaggiando incontrare un difetto del cristallo una oscillazione un fonone quindi del cristallo le due cose sono indipendenti quindi all'incirca il tasso di collisione con l'uno o l'altro sorgente di dischettering per appunto fononi e difetti cristallini sono fenomeni stocastici indipendenti quindi i loro tassi per avvenire si sommano quindi diciamo qua abbiamo il tassi uno fratto tau di un processo l'uno fratto tau dell'altro e questi due questo è il termine dei fononi diciamo questo è quello delle imperfezioni si sommano a dare l'uno fratto tau complessivo l'uno fratto tau è appunto il tasso di collisione d'accordo? Siccome i uno fratto tau i tassi di collisione sono direttamente proporzionali alla resistività vi ricordate la conducibilità è proporzionale a tau la resistività invece è inversamente proporzionale a tau quindi è proporzionale al tasso di collisione questo vuole dire che le resistività i contributi della resistività dovuti alle collisioni e ai fononi si sommano in qualche senso uno può pensare che si trova di fronte a due resistenze in serie un elettrone incontra prima diciamo tutti i difetti e poi incontra tutti i fononi e le due resistenze si sommano naturalmente non è così l'elettrone attraversando il materiale incontra alternativamente nella stessa di spazio difetti e vibrazioni ma dal punto di vista pratico uno può anche pensare come separatamente ci possono da una parte i difetti e dall'altra parte le vibrazioni e l'elettrone deve incontrare prima gli uni e poi gli altri le due resistenze si sommano come se fossero in serie va bene allora dal punto di vista pratico il tasso di scattering degli elettroni con i difetti dipende dalla concentrazione di difetti da quanto difettoso è il cristallo ma dipende molto poco dalla temperatura perché nelle temperature sperimentalmente accessibili in pratica la distribuzione termodinamica degli elettroni e anche ai campi applicati ai campi applicabili in pratica su un metallo la distribuzione degli elettroni non si modifica di molto poi più avanti nel corso andremo a studiare meglio i dettagli di come si modifica la distribuzione degli elettroni sotto l'effetto di un campo esterno e per effetto della temperatura però diciamo potete abbastanza credere che questi effetti siano piccoli in effetti la figura che abbiamo considerato qua è di gran lunga esagerata cioè lo spostamento di spazio K del centro della sfera di fermi in realtà è mostruosamente piccolo è totalmente invisibile qua diciamo lo spostamento di gran lunga esagerato ai fini diciamo di illustrare il fenomeno ma in pratica questo spostamento è assolutamente infinitesimo in qualunque condizione sperimentale ragionevole e pertanto l'effetto delle impurezze dipende essenzialmente dalle impurezze dei difetti insomma da qualunque tipo di difetto cristallino dipende dalla concentrazione di questi difetti ma non dipende praticamente dalla temperatura quindi questo vuole dire che qualunque campione metallico voi andiate a esaminare sperimentalmente questo avrà una sua resistività un suo contributo della resistività che è una costante dato dai suoi difetti e naturalmente questo contributo è quello che uno va a osservare nel limite di bassa temperatura quindi a bassa temperatura la conducibilità tende a una costante e questa costante è caratterizzata appunto dal tasso di difettuosità del materiale questi in realtà sono due campioni di potassio e vedete che pur essendo tutti e due lo stesso materiale mostrano delle conducibilità a bassa temperatura ben diverse diverse anche di un fattore 3 semplicemente perché sono diversamente difettosi questi cristalli questo cristallo è più perfetto questo è più difettoso in effetti c'è anche una regoletta che dice che così all'incirca se voi pigliate un materiale e ci aggiungete all'incirca un materiale metallico ci aggiungete all'incirca un 1% di impurezze atomiche 1% degli atomi cioè sostituite l'1% degli atomi del metallo per esempio del rame sostituite 1% degli atomi di rame con un altro materiale tanto per dire stagno vi trovate un aumento di circa 10 alla meno 8 ohm per metro della resistenza questa è una regola empirica naturalmente dipende dai dettagli del materiale eccetera ma l'ordine di grandezza è quello va bene quindi questo diciamo è il contributo delle impurezze a bassa temperatura impurezze difetti di varia natura dopodiché uno può cercare di costruirsi dei cristalli estremamente puri estremamente privi di difetti e in questo caso uno ottiene delle resistività a basse temperature nelle temperature dell'ordine delle temperature di ebollizione dell'elio liquido quindi 4 kelvin che sono estremamente estremamente basse molto molto più basse di quelle temperature ambiente in effetti uno può descrivere questo tempo tra le collisioni questo tempo medio tra le collisioni moltiplicandolo per la tipica velocità degli elettroni la tipica velocità degli elettroni in pratica è la velocità di fermi gli elettroni che stanno all'interno della sfera di fermi non contano praticamente niente per la conducibilità quelli che contano veramente sono quelli alla superficie di fermi quelli per cui si ha questo di fatto questo sbilanciamento questo spostamento dell'occupazione dei punti K lo fanno tutti anche gli elettroni più profondi si spostano un po' ma quelli di fatto si trovano compensati cioè per gli elettroni profondi per ogni elettrone che sta da questa parte della sfera di fermi e ce n'è un altro dall'altro e il loro contributo alla corrente è praticamente nullo sono quelli vicino alla sfera di fermi che si trovano non compensati questo elettrone qua non ha un partner dall'altra parte quindi lui dà un contributo netto di corrente e appunto stavamo dicendo che si può andare a descrivere il tempo medio tra le collisioni in termini di un libero cammino medio di una distanza media a cui un elettrone riesce a viaggiare tra una collisione e l'altra semplicemente moltiplicando il tau per la velocità di fermi di questi elettroni che è dell'ordine appunto del milione di metri al secondo e in effetti appunto se uno va a pigliare materiali estremamente puri con un rame estremamente puro perfetto cristallino eccetera a temperature estremamente basse uno riesce a fare estendere il libero cammino medio a distanza dell'ordine di alcuni millimetri o addirittura alcuni centimetri in certi casi però appunto queste sono cose eccezionali sono situazioni eccezionali che richiedono un intenso sforzo sperimentale per creare dei campioni diciamo che non sono praticamente disponibili nel laboratorio nella maggior parte dei casi invece appunto le temperature normali e con campioni normali e resistività sono quelle che abbiamo discusso prima e diciamo di fatto il contributo il contributo termico dei fononi a temperature al di sopra della temperatura di Debye dove in pratica tutti quanti i modi fononici sono eccitati in maniera in circa classica di fatto è praticamente proporzionale alla temperatura quindi il tau al meno uno dovuto ai fononi e di conseguenza il contributo alla resistività dovuto ai fononi va più o meno proporzionale alla temperatura per temperature maggiore della temperatura di Debye uno può anche andare a cercare di vedere i dettagli della dimostrazione ma diciamo non è particolarmente importante diciamo l'idea è semplicemente che le ampiezze degli spostamenti atomici corrispondenti alle citazioni fononiche queste ampiezze medie sono proporzionali alla temperatura e quindi sono proprio questi spostamenti che sono origine di quello che l'elettrone vede come un difetto cristallino e maggiori sono questi spostamenti maggiori in maniera direttamente proporzionale è la probabilità che questo spostamento schetteri l'elettrone lo faccia cambiare di stato lo sposti di nuovo verso l'equilibrio ok tutto ciò spiega l'andamento della resistività ad alta temperatura e spiega l'andamento della resistività a T tendente a 0 quindi una costante T tendente a 0 dovuta ai difetti un andamento lineare ad alta temperatura dovuto ai foloni cosa succede qua in mezzo cioè questo arrotondamento qua è una questione che merita un minimo di attenzione quando uno comincia a scendere a temperature più basse della temperatura di Debye di fatto si trova a stare congelando progressivamente i gradi di libertà fononici di cristallo l'abbiamo studiato nel modello di Debye ci descrive come vengono eccitati i vari fononi e naturalmente quando scendiamo con la temperatura sotto la temperatura di Debye i primi fononi che smettono di essere eccitati sono quelli che stanno vicino a K di Debye quindi che hanno una frequenza alta una frequenza più alta di KBT diviso a catagliato allora questi fononi qua cominciano a diventare sempre più ghiacciati quantum frozen si portano nel loro ground state ma naturalmente continuano a esserci dei fononi che continuano a vibrare a rimanere classici quelli che hanno una omega più piccola di KBT diviso a catagliato quindi man mano che scendete in temperatura sono sempre meno i fononi eccitati e sempre più rimangono eccitati solamente quelli in una sferettina vicino a K uguale a zero ok allora questa riduzione dei fononi eccitati quindi dei fononi disponibili a determinare scattering per gli elettroni ci va a spiegare appunto questo meccanismo qua di incurvamento della resistività in funzione della temperatura allora diciamo l'osservazione cruciale da cui si deve partire è che nelle collisioni tra elettroni e fononi ci sono due leggi di conservazione che vanno rispettate una è la conservazione del momento e due è la conservazione dell'energia allora parliamo un attimino della conservazione dell'energia prima di tutto chiaramente i fononi sono in grado di fornire o di ricevere energia dagli elettroni ma la scala di energia degli elettroni che è l'energia di fermi gli elettroni che stanno qui alla superficie di fermi hanno energia e pari all'energia di fermi sono tendenzialmente molto più grandi delle scale di energie dei fononi che sono dell'ordine dell'energia di Debye o a temperature più basse di energie dell'ordine di KBT in pratica i fononi eccitati che determinano scattering degli elettroni hanno energie che sono a tagliato omega dell'ordine di KBT o anche meno allora questi questi fononi non è che sono in grado di pigliare per esempio un elettrone da qua dentro e portarlo fuori sulla superficie di fermi o prendere un elettrone dalla superficie di fermi e portarlo molto più fuori molto lontano perché l'energia che hanno a disposizione è molto piccola su questa scala qua è quasi zero quindi in pratica quello che possono fare al massimo i fononi è prendere un elettrone da appena sotto la superficie di fermi e portarlo di poco sopra ok naturalmente non possono portarli da dentro per il principio di Paoli quindi lì non si può stare quando applicate un campo elettrico voi spostate l'intera sfera di fermi nella direzione opposta al campo elettrico e quindi diciamo per riportare verso l'equilibrio questa situazione le collisioni a far bene dovrebbero andare a pigliare degli elettroni dal lato di qua della sfera di fermi e riportarli al lato di là naturalmente se questo spostamento è molto piccolo come in pratica è in tutte le condizioni sperimentali ragionevoli questo spostamento da qua a qua dal punto di vista della conservazione dell'energia non è un gran problema perché gli elettroni che stanno qua sono alla superficie di fermi e quelli che stanno qua anche quindi l'energia necessaria non è particolarmente grande quello che invece è grande è il momento trasferito uno parte da un elettrone da questa parte della superficie di fermi e vorrebbe portarlo dall'altra parte quindi per ristabilire rapidamente l'equilibrio uno dovrebbe fornire un momento che è all'incirca il doppio di K di fermi o comunque dell'ordine del doppio di K di fermi va bene? questo non è assolutamente un problema a temperature alte perché il K di Debye è confrontabile con il K di fermi tutte queste quantità sono confrontabili con l'inverso del passo reticolare del cristallo quindi uno su A dovrebbe dire che su A quindi questi K se tutti i fononi sono eccitati sono senz'altro a disposizione sicuramente ci sono i fononi che hanno a disposizione abbastanza impulso per spostare un elettrone da qui a qui ad alta temperatura a bassa temperatura dicevamo no a bassa temperatura sono solo i fononi con piccolo K che sono ancora eccitati quelli a grande K smettono di essere eccitati e quindi questi fononi eccitati non sono più in grado di spostare gli elettroni da un capo all'altro della sfera di fermi al massimo quello che potranno fare è spostarli lungo la superficie di fermi di poco quindi per esempio da qui a qui naturalmente questo aiuta andare verso l'equilibrio ma è senz'altro aiuta meno che quanto farebbe uno spostamento da qui a qui che riporta direttamente verso la giusta configurazione di equilibrio per riportare gli elettroni all'equilibrio se uno comincia a fare spostamenti con cambiamenti di K molto piccoli uno ha bisogno di un sacco di collisioni quindi collisioni con momento dei fononi troppo piccolo sono molto inefficaci a riportare la distribuzione verso la distribuzione degli elettroni verso l'equilibrio e qua entra in gioco questo fenomeno dello scattering un clap vediamo un attimino questa figura allora in questa figura abbiamo disegnato la sfera di Fermi disegnata due volte nel senso che è ripetuta periodicamente nello spazio reciproco la sfera di Fermi uno la può pensare centrata in K uguale a zero ma poi in un cristallo periodico uno va a ritrovarsi la stessa struttura ripetuta periodicamente con la periodicità del reticolo reciproco ora chiaro se stiamo parlando veramente di un semplice geglio quindi di un gas di elettroni che interagisce con un background uniforme non c'è nessuna periodicità non c'è nessun reticolo reciproco e non c'è motivo che esista questa seconda sfera ma in realtà in un solido vero il background positivo non è un background positivo ma sono dei nuclei piazzati in determinate posizioni cristalline periodiche e quindi in realtà esiste un reticolo reciproco esistono i vettori G e quindi in realtà uno ha tante repliche della superficie di Fermi non sarà proprio una sfera la superficie di Fermi ma comunque diciamo all'incirca una sfera ripetuta periodicamente in spazio reciproco con la periodicità del reticolo reciproco gli stati all'interno di tutte queste sfere di Fermi sono pieni e quelli all'esterno sono vuoti naturalmente questi stati qua sono giusto delle repliche equivalenti a quelli qua dentro vabbè a questo punto uno si accorge che questi fononi che abbiamo in disposizione a bassa temperatura hanno un piccolo Q e quindi come dicevamo prima possono spostare l'impulso da un certo K' a un certo K o da un certo K' a un certo K' lungo la superficie di Fermi diciamo di poco in un normale processo di scattering standard in cui semplicemente K' uguale K' quel è il momento del fonone e d'altra parte esiste l'altra possibilità quella dei processi UNCLAP quelli in cui la conservazione del momento invece che essere scritta in questa maniera qua è scritta come K' uguale K' più Q più G tutti i momenti sono definiti a meno di vettori del reticolo reciproco e quindi questa legge di conservazione qua è altrettanto valida in effetti diciamo il caso G uguale 0 vi dà lo scattering normale quello standard ma i casi in cui G è diverso da 0 prendono il nome di scattering UNCLAP in questi fenomeni di scattering UNCLAP se vogliamo il momento in più viene fornito dal centro di massa dell'intero cristallo e allora in questo tipo di processi la situazione è che uno può soddisfare la conservazione dell'energia e del momento soprattutto anche in transizione in cui un elettrone parte da questo lato della sfera di Fermi e si sposta sul lato opposto alla sfera di Fermi spostandosi nella zona di Brillouin successiva o se vogliamo nella cella successiva del reticolo reciproco allora in questo tipo di processi di urto è ben possibile che il K cambi di un grosso angolo quindi uno passa da un K diretto di qui a un K diretto di qui cambiando quindi di un grosso angolo e questi processi sono estremamente efficaci quindi un singolo evento di scattering permette di riportarsi rapidamente verso l'equilibrio disgraziatamente anche questi processi WUNCLAP qua a un certo punto finiscono perché? ma perché vedete ogni sfera di Fermi distra una certa distanza minima dalle sue copie ripetute nelle altre celle del reticolo reciproco questa distanza minima questo Q minimo è tale per cui quando la temperatura l'abbassate così tanto che i fononi che hanno un'energia pari alla velocità del suolo volte accatagliato volte questo Q minimo non possono più essere eccitati a questo punto anche questi processi diventano impossibili quindi di fatto vi trovate che se abbassate la temperatura al di sotto di una certa temperatura che abbiamo chiamato qua θU la temperatura corrispondente alla minima energia di questi fononi in grado di fare processi UNCLAP a quel punto c'è una rapida soppressione di questi processi UNCLAP e al di sotto di questa gli unici processi in grado di riportare verso l'equilibrio dal punto di vista dei fononi sono appunto questi processi normali che costringono K a strisciare lentamente lungo la sfera di fermi per portarsi appunto dal lato in cui vengono accelerati nel campo elettrico verso il lato in cui l'equilibrio di fermi di IRAC tendrebbe a metterli quindi sono estremamente inefficaci e pertanto a bassa temperatura quando si cominciano a scendere sotto questa temperatura θU rimane solamente appunto questo contributo dei fononi normali che di fatto è come se fosse un tau efficace mostrosamente più grande e quindi questo spiega questo completo spiattamento dell'andamento della resistività rispetto alla temperatura a basse temperature quando si scende sotto questa θU club che potrebbe essere parte qua si ha un crollo esponenziale dei contributi di questi fononi con K abbastanza grande e poi rimangono appunto questi fononi normali quelli che possono solo da scattering normali e questi danno un rapidamente diminuente contributo alla resistività va bene che vogliamo dire quanto direi che ci siamo beh diciamo qua per esempio far vedere un paio di esempi dice che nel potassio la temperatura di Debye è 91 Kelvin la temperatura di questi fordoni un club è 23 Kelvin ma naturalmente dipende poi dal materiale i dettagli se uno scende appunto intorno al paio di Kelvin questi processi un club sono del tutto trascurabili e la resistività è legata appunto interamente a questo scattering a piccolo angolo che è estremamente debole va bene ci sono domande su questa parte qua va bene io non ho capito bene perché cioè perché ci ragioniamo tanto sul fatto che la sfera di Fermi in spazio K ritorni all'equilibrio cioè perché questa cosa è legata al fatto che il metallo conduce giusto sì beh diciamo è legata al discorso sulla conducibilità che abbiamo fatto prima cioè questa equazione qua è legata al fatto di quanto tempo può essere fatta funzionare quindi al tau se il tau diventa molto lungo il metallo conduce bene va bene quindi se i fononi non sono in grado di riportarci indietro quindi il tau efficacemente diventa molto lungo la resistività diventa molto piccola ok va bene ok allora possiamo fare pausa un attimo registration eccoci ok adesso vediamo che succede quando teniamo appunto anche della possibilità di un campo magnetico non solo di un campo elettrico applicato quindi nell'equazione qua per lo spostamento dei momenti in cui abbiamo esplicitamente il tempo di collisione uno su tau indicato qua in questo termine qua di fatto un termine di attrito se vogliamo che va a descriverci appunto le collisioni possiamo andare a vedere che succede in presenza di una forza in generale data dalla formula della forza di Lorenz questa qua per il sistema internazionale in cui appunto ci sia anche un campo magnetico e per semplicità consideriamo il caso di un campo magnetico uniforme e diretto lungo la direzione z scendiamo l'asse z nella direzione del campo magnetico per semplicità quindi diciamo possiamo andarsi a scrivere le equazioni per esempio per la delta k o volendo per la velocità se preferiamo o addirittura se volessimo per le tre componenti della corrente della densità di corrente come ci pare con tutte le possibilità assolutamente equivalenti con dei fattori ben precisi la relazione tra delta k e velocità è quella che abbiamo scritto prima sta scritta allora vedete appunto questo termine qua scritto in termini della velocità il termine dovuto alle collisioni ha un'esplicita forma di attrito viscoso cioè di fatto siccome questo m d t di v è m per a l'accelerazione questo termine qua m fratto tau per v è una forza anzi è meno una forza viscosa se voi lo prendete e lo portate dall'altra parte dell'uguale si combina con le forze conservative elettriche ed è un termine meno m su tau v cioè è un termine meno gamma per v esattamente come il termine di attrito del paracadutista con l'aria tanto per darvi idea un attrito viscoso proporzionale alla velocità ok allora questa diciamo è l'equazione del moto e se togliete il c diventa l'equazione nel sistema internazionale che ha tre componenti x y e z e conviene andarsela a scrivere esplicitamente per componenti allora chiaramente quando guardate la componente x della velocità in questa è coinvolta la componente x del campo elettrico e invece facendo il prodotto vettoriale della velocità con un campo magnetico diretto in direzione z vi viene che la componente x di questo prodotto vettoriale è proporzionale alla componente y della velocità e anche all'intensità del campo magnetico naturalmente e analogamente la componente y di questa velocità vi viene diciamo collegata al campo elettrico in direzione y e alla velocità in direzione x infine la componente di velocità diretta nella stessa direzione del campo magnetico non sente effetti del campo magnetico in effetti le forze magnetiche sono perpendicolari al campo magnetico quindi finché vi muovete nella stessa direzione del campo magnetico il prodotto v per b fa 0 e quindi questa vi viene direttamente legata al campo elettrico nella direzione z va bene allora diciamo queste sono le equazioni che governano la situazione generale e tanto per farsi un'idea di quello che abbiamo in mente è una situazione in cui abbiamo una sbarra di metallo immersa in un campo magnetico diretto appunto in direzione z in cui vogliamo fare circolare una corrente in direzione x quindi applicando un campo elettrico in direzione x allora nel momento in cui noi applichiamo il campo elettrico in direzione x stiamo partendo con una velocità inizialmente uguale a 0 in tutte le direzioni ma subito un istante dopo gli elettroni cominciano ad acquisire una velocità in direzione x in direzione x verso negativo ora questi elettroni sentiranno l'effetto del campo magnetico e lo sentono con una forza di Lorentz in direzione y perpendicolare al campo magnetico qua il campo magnetico viene fuori dal display diciamo in questo caso del piano del display e quindi tende a questa forza magnetica tende a defletterli perpendicolarmente alla loro velocità d'accordo? questo è quello che succede in un transiente iniziale d'altra parte questo non può andare avanti a lungo perché un metallo con delle superfici aperte ai bordi non può sopportare una corrente stazionaria in direzione perpendicolare a queste facce gli elettroni quando raggiungono queste facce sono bloccati si vanno a fermare quindi questi elettroni tendranno ad accumularsi sulle facce perpendicolari all'applicazione del campo elettrico esterno della corrente e appunto a formare un accumulo di cariche e questo accumulo di cariche determinerà un campo elettrico perpendicolare e la applicazione perpendicolare tale da compensare esattamente la forza di Lorentz che cerca di spingere giù gli elettroni da questa parte la componente magnetica della forza di Lorentz in modo che di fatto questo campo elettrico nel regime stazionario appunto fa sì che la corrente perpendicolare si annulli esattamente vediamo un attimino questa cosa in termini di equazioni allora diciamo il transiente iniziale viene governato da tutta l'equazione compresi i termini con le derivate rispetto al tempo nel transiente si hanno delle quantità le varie componenti di velocità che variano nel tempo d'altra parte se aspettiamo abbastanza lungo ci aspettiamo che nulla più vari nel tempo e ci troviamo in un regime di corrente stazionaria e in questo regime di corrente stazionaria appunto nulla più varia e tutti i termini con derivate rispetto al tempo questo questo e questo li possiamo ignorare fanno zero quindi le equazioni ci dovranno delle cose del tipo m fratto tau per la velocità delle varie componenti uguali a quello che c'è scritto al membro di destra quindi portando l'm su tau di là riscriviamo queste tre equazioni come sono scritte qua dove i termini con campo magnetico che ci sono appunto nell'equazione per la x e nell'equazione per la y sono stati riscritti introducendo una notazione abbreviata questa quantità omega c che non è altro che il rapporto tra la carica e la massa dell'elettrone la carica alimentare e la massa dell'elettrone è moltiplicato per il campo magnetico ora questa quantità questo prodotto di una carica per un campo magnetico diviso una massa uno si può abbastanza facilmente rendere conto che ha dimensioni dell'inverso di un tempo quindi in pratica è una frequenza una frequenza angolare in effetti e prende il nome di frequenza di ciclotrone il ciclotrone forse qualcuno l'ha sentito nominare è un attrezzo che veniva utilizzato negli anni 40-50 dai ricercatori di fisica delle particelle e poi è stato in qualche modo renduto ai fisici medici adesso è un oggetto che utilizzano i fisici medici per produrre isotopi radioattivi e cose di questo genere in pratica un ciclotrone è una macchina con un campo magnetico in cui vengono iniettati degli elettroni e vengono fatti girare dentro a questo campo magnetico e la frequenza di ciclotrone questa omega c è proprio la frequenza angolare con cui questi elettroni ruotano nel vuoto diciamo all'interno di queste macchine con campo magnetico b la formula è esattamente la stessa ma in quel caso lì si sta parlando di elettroni che si muovono nel vuoto d'accordo nello spazio vuoto all'interno di queste macchine è stato fatto opposto il vuoto qui invece noi stiamo parlando di elettroni che si muovono all'interno della materia all'interno di un solido ciò nonostante ci torna comodo questo concetto di omega c in realtà diciamo qua nel calcolo che stiamo facendo per i metalli non è che uno vede mai niente che ruoti non c'è nessuna traiettoria circolante con frequenza angolare omega c ma lo stesso concetto poi lo ritroveremo fra qualche lezione quando parleremo dei semiconduttori nel qual caso diciamo effettivamente uno ha modo di dimostrare che gli elettroni riescono anche all'interno della materia all'interno di un semiconduttore a tracciare delle orbite circolari la cui frequenza angolare è legata a questa formuletta va bene quindi da qui nome insomma di frequenza di ciclotrone ma è chiaro che quello di cui stiamo parlando non ha niente a che vedere con i ciclotroni stiamo parlando di elettroni dentro ai metalli ai cristalli in ogni caso diciamo avendoci questa quantità omega c introdotta appunto per brevità in queste equazioni il prodotto omega c per tau è un numero puro come deve essere nel senso che qui abbiamo una velocità uguale a un numero puro volte un'altra velocità allora vedete che abbiamo questo termine che collega la vx con la vy in questa equazione qua con un meno e questo termine qua che collega la vy con la vx in questa altra equazione qua con un più che risultano direttamente da questi due termini qua nelle equazioni iniziali va bene allora naturalmente l'equazione lungo z in effetti descrive la normale conducibilità ohmica qui se andate a moltiplicare per la densità degli elettroni e per la carica degli elettroni ottenete la solita relazione j uguale sigma per e quindi nella direzione z non sta succedendo niente di particolare se uno applicasse un campo elettrico in direzione z cioè parallelo al campo magnetico qua il metallo si comporta come un normalissimo conduttore ohmico quello che interessa a noi è proprio l'effetto Hall cioè quello che succede quando andiamo a considerare in moti in direzioni x e y quindi queste due equazioni qua ah per la cronaca vi ho scritto qua qual è l'ordine di grandezza di questa frequenza di ciclotrone viene 1,76 per 10 alla 11 radianti al secondo se pigliate un campo magnetico di un tesla giusto per darvi un attimino l'idea di quant'è la frequenza di ciclotrone la frequenza non angolare di ciclotrone cioè questa divisa per 2 pi greco viene 28 gigahertz ok a questo punto consideriamo appunto la situazione che è proprio questa disegnata in questa figura qua in cui piazziamo un campo elettrico sotto nostro controllo in direzione x un campo magnetico fissato in direzione z e andiamo a vedere che succede nella direzione perpendicolare a entrambi quindi nella direzione y e in particolare andiamo a vedere nel regime stazionario quant'è questo campo elettrico che si sviluppa nella direzione perpendicolare in modo tale da compensare la forza di Lorentz magnetica e quindi fa sì che la corrente in direzione y si annulli quindi in pratica la velocità in direzione y quindi di fatto la condizione che dovremmo andare a soddisfare è che questa velocità in direzione y in questo stato stazionario faccia 0 quindi questo di fatto pone una condizione su quant'è le y d'accordo? perché se voi piazzate questo uguale a 0 potete poter ricavarvi la ey come funzione di vx ed è quello che viene fatto qua quindi di fatto uno inverte questa relazione qua ricavandosi e y in funzione della velocità lungo x dopodiché la velocità lungo x siccome la vy non fa 0 oppure lei lei è una funzione del campo elettrico applicato gli elettroni si muovono in direzione x con una velocità proporzionale al campo elettrico applicato e di fatto se non c'è questo termine qua la relazione è sempre la solita relazione ohmica in cui la velocità è data da una certa mobilità la introdurremo fra un po' ma questa è in pratica la mobilità a volte il campo elettrico applicato e quindi di fatto uno si trova che il campo elettrico in direzione y che è proporzionale appunto alla velocità in direzione x a causa di questa equazione qua è in pratica anche proporzionale al campo elettrico applicato in direzione x e anche tramite questa frequenza di ciclotone che c'è qua anche al campo magnetico quindi c'è questa relazione che mette appunto in collegamento campo elettrico in direzione y con campo magnetico e campo elettrico nelle direzioni z e x rispettivamente tutti i c che vedete basta cancellarli e ottenete le formule nel sistema internazionale a questo punto diciamo avendoci questa relazione di proporzionalità viene spontaneo a introdurre un coefficiente che vi dice appunto il fattore di proporzionalità tra campo elettrico trasverso che viene osservato e il prodotto non del campo elettrico lungo x ma della corrente lungo x volte il campo magnetico lungo z questa quantità qua viene chiamato il coefficiente di Hall nel nostro modello di gas di elettroni lo possiamo ricavare abbastanza facilmente basta inserire l'unica quantità che non abbiamo scritto fino adesso che è la corrente in direzione x la corrente in direzione x non è altro che la velocità in direzione x moltiplicata per la carica degli elettroni con segno quindi con segno meno volte la densità degli elettroni quindi di fatto la relazione conducibilità per campo elettrico in direzione x quindi sostituendo in questa definizione la corrente lungo x il campo lungo y che è stato ricavato qua sopra e il campo magnetico b che sta nella definizione otteniamo questa relazione qua allora vedete i c il c lo buttate via perché diciamo non fa parte del sistema internazionale tutto il resto ha grandi c'è una grande quantità di consimplificazioni prima di tutto si semplifica il campo magnetico come deve si semplifica il campo elettrico in direzione x come deve ma si semplifica anche il tempo medio tra le collisioni tau e la massa degli elettroni nonché una delle due cariche elementari che ci sono qua e il risultato alla fine pari a 1 fratto la densità per la carica elementare quindi è una quantità che sostanzialmente si va a misurare in metri cubi fratto coulomb quindi questo coefficiente di Hall ha unità di metri cubi fratto coulomb e il suo ordine di grandezza tipico per le densità tipiche che noi sappiamo che sono dell'ordine di diciamo dell'ordine diciamo 10 alla 29 elettroni al metro cubo quando poi li moltiplicate per la carica elementare che è 1 e qualcosa per 10 alla meno 19 coulomb vi viene dell'ordine di 10 alla meno 10 coulomb fratto metro cubo nei metalli standard d'accordo no? quindi questo è il tipico diciamo valore di questo coefficiente di Hall che è caratteristicamente negativo questo diciamo questo valore qua si può andare poi a confrontare con i dati sperimentali e qua ci sono varie misure di questo coefficiente di Hall in vari materiali qua diciamo è dato in queste strampalate unità CGS qua viene anche spiegato come ottenerle nelle unità di metro cubo su coulomb basta moltiplicarlo per 9 per 10 alla 13 e quindi va beh diciamo viene abbastanza simile a quello che uno si aspetterebbe per questo modello di elettroni liberi nella maggior parte dei casi tranne in alcuni casi in cui viene sbagliato o comunque strano il segno invece che essere negativo addirittura ci sono dei casi in cui come il beriglio risulta positivo l'alluminio risulta positivo l'indio risulta positivo l'arsenico addirittura molto grande positivo e poi ci sono dei casi in cui ci sono di questi coefficienti di Hall anomalmente enormi come il bismuto voilà quindi diciamo questo questo semplice modello che abbiamo considerato di elettroni liberi funziona ragionevolmente bene almeno per i metalli semplici dopodiché diciamo può creare dei risultati un po' strampalati che hanno bisogno di interpretazione in altri metalli in cui diciamo la struttura diventa importante e va capita e va capita meglio va bene diciamo questo è quanto volevo più o meno dirvi sull'effetto Hall ci torneremo poi di nuovo quando parleremo dei semiconduttori e invece volevo dirvi un pochino di cose sulla conducibilità termica dei metalli oltre a quella appunto elettrica di cui abbiamo appena parlato allora per quanto riguarda la conducibilità termica possiamo andare a riciclare quell'espressione di cui avevamo fatto uso quando abbiamo parlato della conducibilità termica determinata dai fononi dalle vibrazioni del cristallo vi ricordate la conducibilità termica data in termini del calore specifico per unità di volume a volte la velocità dei portatori di energia questa V qua la velocità termica dei portatori di energia che in quel caso era la velocità del suono volte il libero cammino medio forse è ancora meglio questa formula quando è descritta come un terzo per il calore specifico per unità di volume volte la velocità quadratica il quadrato della velocità volte il tempo tau delle collisioni questa è ancora più diciamo più precisa diventa questa formula così voilà allora qual è la novità qua i portatori sono gli elettroni invece che i foloni e quindi sicuramente diciamo ci sono due grosse differenze una è che la velocità è la velocità degli elettroni non quella dei fononi quindi è dell'ordine dei milioni di metri al secondo la velocità di fermi invece che la velocità del suono e due è che invece che avere il calore specifico per unità di volume dei fononi abbiamo quello degli elettroni e vi ricordate il calore specifico per unità di volume degli elettroni a bassa temperatura è sicuramente più grande di quello dei fononi è lineare con la temperatura invece che cubico con la temperatura come quello dei fononi e quindi soltanto guardando questa formula qua e pensando di applicarla al trasporto di energia da parte degli elettroni ci viene chiaramente subito da osservare che a bassa temperatura il trasporto sarà dominato dagli elettroni rispetto alle vibrazioni dopodiché sappiamo anche che invece ad alta temperatura la capacità termica degli elettroni tende ad essere più bassa di quella dei fononi e quindi è possibile che le cose vadano in maniera diversa e che quindi il trasporto delle vibrazioni possa diventare competitivo allora diciamo se uno vuole andare a calcolarsi questa quantità qua uno va a cercare di mettere dentro i valori per i gas di fermioni la velocità che c'è qua la moltiplica per l'altra velocità nascosta dentro nell'L viene nella velocità al quadrato quindi la velocità di fermi al quadrato e quindi di fatto riesce a scriversi una cosa che è legata all'energia di fermi sostanzialmente d'altro canto il calore specifico ricordate il calore specifico per unità di volume degli elettroni noi non abbiamo mai scritto per unità di volume l'abbiamo scritto per elettrone ma semplicemente moltiplicando e dividendo per il volume ottenete il calore specifico per unità di volume che è la solita formula tranne che vi compare una densità a quel punto a quel punto nel calore specifico per unità di volume degli elettroni abbiamo una temperatura di fermi al denominatore la temperatura di fermi ricordate è un T fratto TF la temperatura di fermi è uguale a KB volte è uguale l'energia di fermi diviso KB quindi un'energia di fermi si cancella e vi nasce un ulteriore KB quindi alla fine se uno va a sostituire un po' tutte queste quantità qua appunto si va a semplificare questa velocità di fermi e ci risulta una conducibilità termica elettronica che diciamo a parte appunto questi fattori pi greco legati al calore specifico vi viene proporzionale alla densità degli elettroni alla temperatura o all'energia termica KB al tempo tra le collisioni è inversamente proporzionale alla massa degli elettroni a questo punto diciamo uno può andare a confrontare questa quantità qua che vedete assomiglia come formula abbastanza alla formula della conducibilità elettrica che abbiamo discusso prima torniamoci un attimo conducibilità elettrica eccola qui vedete se la summa ci assomiglia un po' sta formula c'è la densità c'è il tau c'è la massa naturalmente qua c'è l'energia al quadrato la carica elementare al quadrato nella formula della conducibilità termica c'è KBT quindi il quanto termico di energia e un'altra costante di Boltzmann però appunto viene spontaneo confrontare questa formula qua facendo il rapporto tra questa K elettronica questa conducibilità termica elettronica e la conducibilità elettrica elettronica e qua si semplificano per l'appunto i vari tau la massa dell'elettrone la densità e alla fine uno si trova con una quantità che è data da una costante universale di greco al quadrato terzi volte il quadrato della costante di Boltzmann diviso la carica elementare per la temperatura quindi di fatto questa relazione che prende il nome di relazione di Wittmann e Franz vi dà un collegamento tra conducibilità termica e conducibilità elettrica dei metalli e in effetti fa una predizione molto forte vi dice che metalli con un'alta conducibilità elettrica dovrebbero averci anche un'alta conducibilità termica e viceversa sempre naturalmente che uno possa trascurare il contributo dei fononi quello si aggiunge in più ma se uno riesce a distinguere il contributo elettronico da quello che è fononico per i contributi elettronici questo dovrebbe valere questo rapporto inoltre questa relazione vi dice comunque che per T tendente a 0 per buono che sia la conducibilità elettrica in ogni caso la conducibilità termica tenderà a 0 a causa di questo T perché il calore specifico elettronico tende a 0 in modo proporzionale alla temperatura quindi per T tendente a 0 in ogni caso anche un buon metallo non è in grado di trasportare energia in effetti uno definisce il numero di Lorentz che è appunto questo rapporto K su sigma è diviso anche per la temperatura e questo è confrontabile direttamente con questa costante universale pi greco quadro terzi per Kb su E alla seconda questa quantità qua fa 2.45 per 10 alla meno 8 watt per ohm diviso gradi quadro o se volete volta al quadrato diviso gradi al quadrato watt per ohm fa semplicemente volta al quadrato diciamo l'osservazione principale è che questa quantità non coinvolge tau è indipendente sia da tau non coinvolge la densità degli elettroni non coinvolge la massa degli elettroni quindi dovrebbe essere una predizione universale che per un qualsiasi metallo qualunque sia la temperatura qualunque sia la sua densità degli elettroni qualunque sia l'eventuale massa efficace se questi elettroni avessero una massa diversa da quella dell'elettrone nel vuoto dovrebbe averci questo rapporto ben preciso per appunto tra la conducibilità termica quella elettrica moltiplicata per la temperatura e questi sono i risultati delle misure fatti a temperature relativamente vicine alla temperatura ambiente per vari metalli in unità appunto di questi 10 al meno 8 watt ohm per kelvin e vedete che i valori sono in ragionevole accordo con le predizioni della legge di Wittmann e Franz e eventuali deviazioni sono legate al fatto che che quasi abbiamo assunto che i meccanismi di collisione in grado di rallentare il trasporto termico siano esattamente gli stessi che agiscono contro il trasporto elettrico cosa che più o meno è vera ma non esattamente e quindi vabbè diciamo l'accordo è buono ma non perfetto ci sono delle deviazioni di solito ancora più grandi a temperature un po' più basse quindi a temperature sui 100 kelvin o meno si osservano spesso deviazioni un pochettino più significative va bene direi che diciamo qua abbiamo discusso un attimino questa faccenda qua ritorneremo in ogni caso su queste questioni di conducibilità termica e conducibilità elettrica quando parleremo un po' più in dettaglio dei meccanismi di trasporto nei metalli verso la fine del corso utilizzando l'equazione di Boltzmann e invece a proposito di questo capitolo volevo segnalarvi un po' di problemi in particolare mi inviterei a provare a fare il problema 1 che di fatto è il calcolo a temperatura nulla dell'energia scritta appunto come 3 quinti volte l'energia di fermi per il numero di elettroni calcolatevi anche la pressione il modulo di bulk del gas di elettroni a temperatura nulla sono esercizi utili che insomma sono ripassi di problemi di struttura della materia di fatto questo è un esercizio meno ripazzesco quindi è un problema utile e interessante è quello del gas di fermioni in due dimensioni fate vedere che di fatto il potenziale chimico in quel caso lì risulta praticamente costante anche se qua c'è questa complicata funzione scritta qua sostanzialmente il potenziale chimico non si schioda semplicemente per via che la densità degli stati del caso bidimensionale è praticamente una costante in due dimensioni la densità degli stati va come uno sulla radice dell'energia in tre dimensioni va come la radice dell'energia in due dimensioni è praticamente costante e con una densità degli stati costanti il potenziale chimico non ha grossi motivi di spostarsi dall'energia di fermi quando siete a temperatura finita e l'altro esercizio che segnalo è l'esercizio 6 di questo capitolo 6 che è così utile che ve lo faccio io perché diciamo è praticamente interessante andarsi a chiedere che succede alla conducibilità elettrica quando la studiamo in alternata quindi quando andiamo a piazzare un campo elettrico non costante ma un campo elettrico che varia nel tempo allora chiaramente in questa situazione qua non potremo andare a ignorare i termini con le derivate rispetto al tempo proviamo a farlo allora l'idea è che uno parte dalla definizione di densità di corrente a questo è il solito pdf che già trovate sul sito ve l'ho caricato qua c'è la densità di corrente scritta in termini della densità degli elettroni della velocità media e del carica da cui possiamo ricavare la relazione che abbiamo già usato mille volte con la velocità l'equazione del moto per la velocità è questa qua anche questa è già scritta varie volte qua c'è il termine di attrito il termine iniziale e il campo applicato qua assumiamo zero campo magnetico ma assumiamo che il campo elettrico varia nel tempo diciamo prima di tutto ci scriviamo un'equazione per la densità di corrente tanto diciamo è uguale vi dicevo prima possiamo scrivere l'equazione per lo spostamento in spazio k per la velocità media o anche per la densità di corrente sostituiamo la velocità data da questa formula qua e poi semplifichiamo un po' di cose portando questo meno qe per n dall'altra parte dell'uguale dividiamo anche per la massa e quindi ci viene questa relazione qua che lega densità di corrente a un dato istante di tempo e campo elettrico allo stesso tempo ora assumiamo di avere un campo elettrico che oscilla sino solidalmente nel tempo usiamo la solita notazione dei numeri complessi perché è più semplice se preferite farlo con seno di omega t va bene uguale è un pochino più laboriosa la matematica ma il risultato non viene uguale a questo punto facciamo un ansatz per la soluzione dell'equazione differenziale in un regime stazionario cioè dopo che possiamo dimenticarci di quel che è successo in un transiente iniziale cioè noi se accendiamo all'improvviso questa oscillazione all'inizio succederà qualche casino alla corrente però dopo un tempo alcune volte tau questo casino iniziale verrà dimenticato e alla fine raggiungeremo un regime stazionario in cui anche la corrente oscilla come il campo elettrico con lo stesso andamento sino solidale abbiamo introdotto due vettori costanti che sono E0 e J0 e possiamo immaginare che E0 sia per esempio un vettore reale che dice esattamente qual è il campo elettrico al tempo iniziale J0 però potrà essere anche complesso potrà avere delle componenti immaginarie non ha detto che sia reale ok adesso sostituiamo questo ansatz nell'equazione differenziale che c'è scritta qua e vedete che ci troviamo la dipendenza dal tempo su cui agisce questo operatore di derivata in questo esponenziale qua quando derivate un esponenziale rispetto al tempo questo vi butta giù un fattore in questo caso meno Iωt né meno Iω scusate quindi riscriviamo l'equazione semplificando via poi i fattori esponenziali quindi la derivata dato un meno Iω i fattori esponenziali non sto a riscriverli pertanto sono uguali da una parte dall'altra si semplificano e qua c'è J0 ed E0 a questo punto la possiamo riarrangiare ricavandoci la J0 in questa maniera qua quindi vi viene al denominatore questa quantità qua l'ho scritta invertendo l'ordine quindi prima Tau al meno 1 e poi meno Iωtau dopodiché mi sembra pratico raccogliere il fattore comune su Tau al meno 1 quindi tirarlo fuori dalla parentesi e gli rimane 1 meno Iωtau così ci viene una parentesi adimensionale a questo punto questo Tau al meno 1 lo possiamo portare di sopra e quindi viene un Tau e ci troviamo Ue al quadrato per N per Tau diviso Me che riconosciamo essere quella che abbiamo già introdotto prima la conducibilità in continua la conducibilità standard in continua che abbiamo chiamato sigma 0 diciamo 0 per ricordarci che siamo in continua a frequenza 0 quindi in pratica la dipendenza della conducibilità dalla frequenza ci viene data solamente da questo denominatore qua da questo 1 meno Iωtau ci troviamo quindi a avere una relazione di risposta lineare tra corrente e campo elettrico in cui la conducibilità in alternata è data da questo fattore qua che è la sigma 0 la conducibilità a frequenza 0 volta una correzione 1 fratto 1 meno Iωtau in effetti ci conviene scriverla magari separando la parte reale e la parte immaginaria di questa conducibilità il trucco è sempre il solito basta moltiplicare sopra e sotto per il complesso coniugato del denominatore lo facciamo e ci viene per l'appunto una sigma 0 volte 1 beh scusate qua naturalmente il meno non c'entra 1 più Iωtau questo meno rimasto spuglio diviso 1 più ωtau alla seconda ok quindi la parte reale di questa di questa sigma è sigma 0 per 1 fratto 1 più ωtau alla seconda la parte immaginaria è sigma 0 per ωtau diviso 1 più ωtau alla seconda ok allora queste due funzioni parte reale e parte immaginaria uno solo può andare a plottare al variare della frequenza ed è quello che ho fatto in questa figurina qua la parte reale parte da sigma 0 e poi man mano che cresce tau scusate che cresce ωtau diminuisce quando ωtau risulta uguale a tau alla meno 1 quindi ωtau fa 1 raggiunge il valore un mezzo e poi man mano che aumenta ωtau questo diminuisce e va giù come 1 fratto ωtau quadro la parte immaginaria invece per ω tendente a 0 fa 0 anzi per ω uguale a 0 è 0 poi man mano che ω cresce e cresce inizialmente linearmente proporzionale all'ω il denominatore è circa 1 però poi man mano che si sale quando si arriva vicini a ωtau uguale a tau il denominatore è diventato circa 2 e quindi si trova a valere circa la metà della sigma 0 quindi a ω uguale a tau sia la parte reale che la parte immaginaria di sigma sono pari alla metà di sigma 0 dopo al di sopra di questo di questo 1 su tau entrambe diminuiscono ma la parte immaginaria diminuisce più lentamente va a 0 come 1 fratto ω perché c'è c'è questo omega numeratore omega quadro denominatore quindi globalmente per grande omega va come 1 su omega ok quindi questi sono gli andamenti di parte reale e parte immaginaria della conducibilità e qual è il loro significato in pratica fisicamente ma diciamo abbiamo una quantità complessa come conducibilità e la conducibilità è il rapporto tra J0 e E0 quindi tra il prefattore della corrente il numero che sta davanti il vettore che sta davanti a E alla I omega T nell'espressione della corrente se E0 lo prendiamo un vettore reale come proponiamo di fare prima avendoci una conducibilità complessa questo vuol dire che il vettore J0 è complesso e il significato di avere un J0 complesso è quello di avere uno sfasamento delle correnti rispetto ai campi che le provocano quindi avereci una fase nel piano complesso diversa da zero di queste quantità complesse significa semplicemente uno sfasamento dell'oscillazione è come se qua se qua uno vuol mettere questo reale lo può fare mettendo al posto di T T meno un certo T tau diciamo T meno un buon nome T meno un certo T tilde quindi questo determina un ritardo o un anticipo dell'oscillazione in funzione del tempo in effetti per come è costruita la cosa qua quindi con una parte positiva parte immaginaria positiva di sigma uno si trova ad avere un ritardo delle correnti rispetto alle tensioni quando la sigma è diversa da sigma immaginaria diversa da zero in effetti se sigma è reale è zero ed è zero hanno la stessa fase e quindi oscillano in fase tra di loro quindi corrente e campo elettrico o se volete densità di corrente e campo elettrico o se volete corrente e voltaggio che è la stessa cosa oscillano in fase insieme se la parte immaginaria della conducibilità è molto piccola questo dà una piccola parte immaginaria anche della J della J zero e quindi questo determina un debole defasamento in ritardo della corrente rispetto al campo elettrico quindi il campo elettrico e la corrente sono leggermente sfasati ma con un piccolo ritardo soltanto della corrente rispetto al campo elettrico quando saliamo in frequenza arriviamo a una situazione in cui sono uguali le parti reali e le parti immaginarie questo succede proprio quando omega è uguale a tavola meno uno e in questo caso qua si ha uno sfasamento di 45 gradi di un quarto di giro e quindi la corrente insegue il campo elettrico con un ritardo di fase appunto di 45 gradi nel limite di grande frequenza il ritardo diventa ancora maggiore si ha uno sfasamento di 90 gradi quando la parte immaginaria diventa dominante rispetto alla parte reale in questo caso appunto la corrente segue in completo ritardo di fase di 90 gradi il campo che la genera di fatto possiamo distinguere a seconda appunto di chi sia più grande se è la parte reale o la parte immaginaria della conducibilità un regime viscoso quello in cui dei due termini nell'equazione differenziale quello legato alla massa inerziale e quello legato all'attrito il più importante di fatto è quello legato all'attrito e quindi si sta in questo regime di essenziale uguaglianza di fase tra corrente o vicinanza di fase tra corrente e voltaggio applicato per passare poi a frequenze più alte più alte di 1 su tau a un regime inerziale diciamo in cui dei due termini dell'equazione differenziale il più importante diventa quello legato alla massa inerziale la derivata rispetto al tempo quello che di fatto tende a ritardare il motto degli elettroni gli elettroni seguono il campo elettrico con ritardo a causa della loro inerzia quando voi applicate il campo elettrico verso destra gli elettroni cominciano ad accelerare verso sinistra ma prima di cominciare ad accelerare verso sinistra devono perdere la velocità che avevano accumulato nel periodo precedente nel semi periodo precedente in cui erano stati accelerati dall'altra parte quindi dobbiamo prima rallentare poi fermarsi poi invertire la loro direzione e questo determina questo ritardo di fase in questo regime inerziale va bene quindi questo è l'andamento molto semplice di fatto della corrente in funzione della frequenza o della conducibilità in funzione della frequenza in questo modello di risposta molto semplice di un gas di elettori d'accordo qua siamo più o meno arrivati ampiamente in fondo a questo capitolo 6 e quindi sembra un buon momento per fermarsi e poi domani domani scusate la settimana prossima ricominciamo parlando degli effetti di banda quelli che sono più caratteristici appunto dei cristalli periodici degli effetti delle componenti di Fourier a g diverso da 0 del potenziale periodico ci sono delle domande ok 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 di